è fortissimo quel cane è fortissimo quel cane vogliamo provare a passare da qui figlia? no no io lo faccio da qui ma voi mi lo sai come si capriò lì ieri sera? ma la televisione? si si è registrato tutto quanti saranno qui? due metri, due metri e mezzo? io sono uno 1,60, 1,70 con i bobcat li che hai ai piedi bobcat, è trattore? ma comunque veramente no la nostra strada è impensabile, qui ormai non la aprono più questa e no cazzo, è fino a quando smette la tormenta guardi il filmino qui al centro della mo guardi, guardi dopo la saghiana vai dunque il terrasso, il primo terrasso madonna asciutto guardi lì Grazie a tutti.